Potrebbe avere ricadute pesanti sulla situazione rifiuti in città. La protesta degli autotrasportatori contro le liberalizzazioni varate dal governo ha provocato rallentamenti e difficoltà nelle operazioni di raccolta e conferimento della spazzatura presso gli impianti. E dopo il sabotaggio di 22 camion nasia, il sindaco De Magistris si appella ai cittadini e chiede la massima collaborazione per limitare quanto più possibile la produzione di rifiuti. Con l'aiuto anche delle forze dell'ordine che hanno scortato i mezzi questa notte siamo riusciti ad avere una situazione difficile ma non drammatica fortunatamente e anche grazie alla collaborazione dei cittadini napoletani che hanno accolto evidentemente anche l'appello del sindaco a ridurre il più possibile la produzione di rifiuti e a tenerla qualche ora in casa. Ma l'emergenza rifiuti in queste ore non è l'unica preoccupazione dei napoletani. La mobilitazione dei trasportatori rivolta contro l'aumento di IRPEF, carburanti e ticket autostradali si traduce infatti anche nel blocco dei beni di prima necessità. Dal pomeriggio di ieri è corsa l'approvvigionamento di carburanti e generi alimentari, lunghissime le code ai distributori di benzina chiusi già in serata perché esaurite tutte le scorte e nei supermercati per le provviste di pane e latte. La situazione questa volta non deriva dalla nostra responsabilità, ripeto oggi possiamo solamente appellarci ai cittadini alla collaborazione e sperando che il governo affronti anche questa vicenda e ci sia una ripresa del dialogo con i trasportatori perché uno sciopero di questa natura mette in ginocchio l'intero paese. Contro le liberalizzazioni proseguono in città anche le agitazioni dei tassisti. In 441 a Napoli sono denunciati per interruzione di pubblico servizio dopo la settimana di occupazione in piazza Plebiscito.